Un minuto, un solo minuto, per ascoltare, guardare, riflettere tutto in italiano. C'era un branco di scimmie che la popolazione voleva mandare via, ma non ci riusciva in nessun modo. Queste scimmie ritornavano sempre e distruggevano tutto. La soluzione è stata quella di piantare degli alberi attorno alla città e permettere alle scimmie di vivere naturalmente. Questa storia fa venire in mente quelle volte in cui ci frullano infiniti pensieri in testa e non si calmano, non si fermano in nessun modo. Eppure un modo c'è, dobbiamo piantare degli alberi e permettere alle scimmie di vivere lì. Quindi possiamo accettare i pensieri e magari concentrarci sul nostro respiro e allora la mente scimmia, si calmerà.